Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ho deciso di parlarvi di un caso in cui una madre di 5 figli scompare, senza lasciare traccia. La domanda che mi sono posta mentre approfondivo questo caso è una, ma è davvero sempre colpa del marito? Partiamo da un fatto, il 24 maggio del 2019, all'incirca verso le 11.30 del mattino, Lauren Almeida, la babysitter dei 5 figli di Jennifer Doulos, arriva a casa della sua capa, a New Canaan, al 96 di Wells Lane, in Connecticut. La donna appena entra in casa si rende conto che c'è qualcosa che non va in quella lussuosa villa. Prima di tutto la macchina che di solito usa Jennifer Doulos, la padrona di casa, ossia una suburban nera, non è in garage. È presente però la sua Range Rover, ma Jennifer ha detto il giorno prima a Lauren che quest'ultima macchina l'avrebbe usata per recarsi in mattinata ad alcuni appuntamenti medici a New York, dopo aver accompagnato i figli con l'altra macchina, ossia la suburban nera. Lauren si preoccupa perché Jennifer avrebbe dovuto già rincasare da tempo. Per di più entrando in casa nota la borsetta di Jennifer sul bancone della cucina. La domanda risulta ovvia, perché la sua borsetta si trova in casa se Jennifer non c'è? Arriva a mezzogiorno, Lauren va a scuola a prendere i 5 figli di Jennifer e chiede agli insegnanti come i bambini siano arrivati a scuola. Tutti le rispondono che i bambini sono arrivati a scuola alle 8 del mattino accompagnati da loro madre, Jennifer. A questo punto Lauren prende i bambini, li porta a casa, li prepara al pranzo, li fa mangiare ed inizia verso le 12.30 a mandare messaggi al telefono di Jennifer. Messaggi a cui però non riceve mai risposta. Di conseguenza Lauren prova a contattare gli amici e i conoscenti di Jennifer. Nel pomeriggio del 24 maggio inizia uno scambio di messaggi tra Lauren e delle amiche di Jennifer e tra queste amiche c'è anche Carrie Laft. Quest'ultima è con lei che rimane più stupita della situazione. Non è da Jennifer non rispondere al telefono. È una persona precisa, affidabile e non vuole far preoccupare gli altri. Pensate che era addirittura solita avvisare anche solo se faceva 10 minuti di ritardo. Le chiamate i messaggi tra Lauren e le amiche di Jennifer vanno avanti per tutto il pomeriggio. Fino a quando Lauren alle 7 di sera avvisa la polizia di New Canaan riguardo la scomparsa di Jennifer. La situazione è alquanto strana. In quanto Jennifer abita in una delle zone più ricche degli Stati Uniti. È davvero strano sia sparita così anche perché, a quanto pare, aveva una vita perfetta. Ma, prima di continuare a parlare delle indagini, facciamo un passettino indietro. Jennifer, in realtà, chi è? Qual è il suo passato? Andiamo immediatamente a delinearlo. Jennifer Faber nasce il 27 settembre del 1968 a New York City da Gloria Houtenberg e Hillard Faber. Jennifer cresce a Brooklyn 8 e suo padre Hillard inizia la sua carriera presso la Chase Manhattan Bank. Rapidamente diventa il vicepresidente più giovane di quella banca. Nel 1975 fonda la Hillard Faber & Company, una delle principali società di intermediazione interdealer. In genere, un broker interdealer è una società di intermediazione autorizzata a condurre operazioni sui mercati coinvolti nelle transazioni di grandi titoli. Hillard è l'amministratore delegato dell'azienda, fino a quando nel 2008 non la vende a TradaWeb. La madre di Jennifer, Gloria, ha un dottorato in scienza dell'educazione e della prima infanzia. Jennifer, quindi, ha dei genitori davvero molto in gamba. E una sorella maggiore che le vuole davvero molto bene, Melissa Irene Faber. La ragazza vive un'infanzia molto agiata, ma continua ad essere una persona molto genuina e alla mano. È estremamente gentile, pacata, sveglia, simpatica. Insomma, Jennifer è proprio una brava ragazzina. Trescendo frequenta la Brown University, gioca squash a livello agonistico e si laurea nel 1990. Subito dopo la laurea si iscrive ad un corso di scrittura alla New York University, fino ad arrivare al 2003, quando un incontro casuale le cambia la vita. Infatti, mentre Jennifer è in Colorado all'aeroporto di Aspen, incontra per caso un suo vecchio compagno di università. Un uomo greco-americano di nome Fotis Doulos. Anche Fotis ha frequentato la Brown ed è proprio in quell'occasione che ha conosciuto Jennifer. I due si sono incontrati in quel contesto, hanno chiacchierato e hanno anche fatto amicizia. Fotis ha una personalità carismatica e molto gentile. È affascinante e dopo essersi laureato, ha davvero fatto molta strada. Infatti ha un lavoro molto reddittizio come consulente finanziario. I due quindi in aeroporto ad Aspen fanno quattro chiacchiere e decidono di rincontrarsi una volta rientrati a New York. Jennifer è davvero felicissima di aver riallacciato i rapporti con Fotis, in quanto lo ricorda come un tipo sveglio in gamba. Fotis Doulos nasce in Turchia, ma cresce ad Atene, in Grecia. Si trasferisce negli Stati Uniti nel 1986 e si laurea alla Brown nel 1989. Successivamente frequenta un master in finanza presso la Columbia Business School a New York. Fotis sposa Hillary Vanessa Aldama, una ragazza anche lei laureata alla Brown, ad Atene, in Grecia, nel giugno del 2000. Il loro matrimonio dura fino al 2004. Quindi Fotis quando incontra Jennifer e decide di frequentarla, è ancora sposato con Hillary, la sua prima moglie. Nonostante ciò Fotis dice chiaramente a Jennifer che con sua moglie è finita. Quindi, quando si rincontrano a New York, scoppia l'amore. Jennifer a questo punto si rende conto che è accanto qualcuno con cui può davvero condividere i suoi interessi e le sue passioni, visto che entrambi desiderano una relazione stabile e anche di mettere su famiglia. Arriva il 28 agosto del 2004, quando la coppia celebra delle suntuose nozze a Manhattan, poco più di un mese dopo dal divorzio effettivo di Fotis. Dopo il matrimonio decidono di stabilirsi a Farmington, nel Connecticut. Nello stesso anno Fotis avvia una società di sviluppo immobiliare, ossia la Four Group. Lui stesso progetta una casa per tutta la famiglia al numero 4 di Jefferson Crossing. E quella è davvero una favolosa villa con giardino. A guardarla da lontano, in effetti, sembra quasi una cartolina da quanto è bella. Ben presto la famiglia si allarga perché arrivano 5 figli, di cui una coppia di gemelli. Jennifer è una madre amorevole. I due stanno insieme per 12 anni e durante questi anni effettivamente ci sono stati degli alti e bassi. Poi però scopre che Fotis ha un amante di nome Michelle Troconis, di conseguenza chiede il divorzio nel 2017. Prende poi in affitto una casa a New Canaan ed ottiene l'affidamento esclusivo dei figli nel marzo del 2018. A Fotis quindi sono concesse solo visite controllate e telefonate e monitorate. Torniamo quindi a casa di Jennifer, a New Canaan. Dal divorzio di Fotis sono passati meno di due anni. E Lauren, la babysitter dei figli di Jennifer, denuncia la sua scomparsa agli agenti. Dopo la chiamata le autorità si recano immediatamente nell'abitazione di Jennifer ed effettuano un'accurata perquisizione della casa. Entrando nel garage le autorità effettivamente si rendono conto che manca un'auto, ossia la suburba nera della padrona di casa. Però notano anche che sul parafango posteriore e su una portiera della sua seconda auto, una Range Rover, ci sono delle tracce scure, strane. E non è finita qui. Quelle stesse tracce vengono anche trovate su un bidone della spazzatura lì vicino. Al che le autorità si chiedono se per caso quello è sangue. Forse qualcuno si è introdotto nel garage e ha rapito Jennifer? È possibile. È per questo motivo che la polizia inizia a prelevare campioni dalla casa, dal garage, in cerca del DNA. Inoltre le autorità danno il via alle ricerche della suburban di Jennifer, che non hanno trovato nel suo garage. Però c'è da dire che non ci mettono molto a trovarla. In quanto dopo poche ore, quella macchina viene ritrovata parcheggiata a Waveney Park, esattamente a 5 km da casa di Jennifer. Appena vedono il mezzo, però, le autorità hanno dei dubbi. Mentre si avvicinano, si domandano se, per caso, Jennifer sia all'interno di quella macchina senza vita. Presto gli agenti constatano che non c'è traccia di Jennifer, né nell'auto, né nelle vicinanze. Di conseguenza ecco che partono le ricerche per ritrovare Jennifer Doulos. Le autorità iniziano a perlustrare la zona, con le squadre di ricerca e le unità cinofile, ma il sole cala e nessuno sa dove si trovi Jennifer. Non trovano niente, neanche delle tracce riconducibili a lei. Gli investigatori, giunta la sera, si dirigono a casa dell'ex marito di Jennifer, Fotis Doulos, che vive circa a 112 km di distanza da casa di Jennifer, che si trova a New Canaan. Lui abita a Farmington. Fotis sostiene che non ha né visto, né tantomeno parlato, con Jennifer e con i suoi figli quel giorno. Però c'è qualcosa che non torna. Appare estremamente calmo. Non sembra agitato dal fatto che... ...la madre dei suoi cinque figli sia sparita. E questo chiaramente fa insospettire le autorità. La polizia di New Canaan chiede a Fotis di recarsi in centrale per essere ufficialmente interrogato. E lui ha consente senza problemi. Arriva la mattina del 25 maggio, ossia il giorno dopo la scomparsa di Jennifer. Le sue ricerche continuano e i media vengono a conoscenza della sua storia. O meglio, della sua scomparsa. E questa situazione lascia un po' tutti senza parole, in quanto una madre di cinque figli è scomparsa da una zona considerata veramente da fiaba. Nel pomeriggio, quindi, Fotis Dulos si presenta alla centrale di polizia. Il punto è che non si presenta da solo, ma con il suo avvocato. E l'avvocato di Fotis dice chiaramente che il suo cliente non avrebbe risposto a nessuna domanda. Ovviamente questa scelta di Fotis desta ancora più sospetti. Considerando che il giorno prima la madre dei suoi cinque figli è scomparsa senza lasciare traccia. Cioè, non si sa proprio dove sia finita Jennifer. Non c'è nessun indizio. Nonostante Fotis non si sia dimostrato collaborativo, La polizia non ha alcun motivo per trattenerlo, quindi lo lascia andare. Data l'urgenza del caso, la polizia però può confiscargli il cellulare. Ma non può elaborare i dati senza un mandato. Quindi, sul momento, si concentrano sul cellulare di Jennifer. Gli investigatori controllano la sua carta di credito, il suo conto corrente, ed il suo cellulare per verificare eventuali movimenti. E scoprono che non ce n'era stato neanche mezzo. Nel frattempo i bambini sono con la nonna materna, ossia con la madre di Jennifer, Gloria. La donna è convinta che alla figlia sia successo qualcosa di orribile. E sospetta che Fotis sia coinvolto. Quindi presenta un'istanza urgente al tribunale per chiedere l'affidamento temporaneo dei cinque bambini. Questo significa che Fotis non può più avere alcun contatto con loro. Intanto le ricerche di Jennifer continuano e tutta la comunità si unisce nelle ricerche per aiutare. Stampano volantini e organizzano squadre di ricerca nei parchi della zona. Una delle prime svolte del caso è stata possibile grazie ad una videocamera di sorveglianza del vicino di casa di Jennifer, che mostra Jennifer rientrare a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola alle 8 e 5. Poi non si vede nient'altro. Nessuna vettura fino alle 10 e 25. Quando ricompare quella che sembra l'auto di Jennifer, che si allontana nella direzione di Webney Park, dove tra l'altro alla fine è stata ritrovata la sua automobile. La polizia pensa che qualsiasi cosa sia successa a Jennifer, è successa in quella casa, a casa sua, in quell'asso di tempo di 2 ore e 20 minuti. Ossia dalle 8 e 5 alle 10 e 25. Arriva anche il mandato per il cellulare di Fotis, così la polizia può rilevare gli spostamenti del suo telefono. E scoprono che quel telefono si trova a casa di Fotis, a Farmington, la mattina in cui Jennifer è scomparsa. Poi il telefono si è spostato fino all'80 di Monta in Spring Road, dove c'è una casa in cui la società di Fotis sta eseguendo dei lavori. Ci troviamo sempre a Farmington. Infine, intorno alle 7 di sera, il telefono di Fotis si trova ad Albany Avenue, a Hartford, sempre nel Connecticut. Ma c'è qualcosa che non torna. I tabulati, infatti, mostrano che il telefono ha fatto diverse soste proprio lungo quella strada. Ma perché mai? I detective a questo punto contattano Lauren, sperando che la babysitter possa offrire loro delle informazioni utili su Jennifer e Fotis. Lauren dice alla polizia che quando i due stavano insieme, Fotis era sempre distante e arrabbiato. Infatti, durante gli anni di matrimonio, non è che sia proprio tutto andato rosa ai fiori. Eppure, visti dall'esterno, sembrava che i due conducessero davvero una vita da sogno, perfetta. In realtà, come molte altre famiglie, anche loro nascondevano dei problemi. Lauren spiega che durante gli anni i coniugi hanno iniziato ad allontanarsi e a litigare sempre più spesso. Di conseguenza, Fotis passa più tempo fuori casa e Jennifer inizia a rendersi conto di come le cose vadano meglio senza Fotis in casa. La verità è che Jennifer per anni ha temuto Fotis, a causa del suo carattere irrascibile. Ha dovuto sopportare tante tensioni, giorno dopo giorno. E alla fine, Jennifer è diventata l'ombra di se stessa. Il suo atteggiamento è sempre estremamente garbato e gentile, ma è chiaro a tutti sia davvero molto, molto triste. Col tempo, oltre ad essere triste, Jennifer inizia anche a preoccuparsi per la sua incolumità e quella dei suoi figli, in quanto scopre anche che Fotis tiene una pistola in casa e non l'ha mai avvisata. E io qui mi chiedo, tu, marito, acquisti un'arma. La nascondi in casa sostenendo che sia per protezione domestica, perché poi è questo che ha dichiarato Fotis, Ma non ti preoccupi neanche di avvisare tua moglie? Neanche due paroline sbiascicate? Inoltre, Jennifer la pistola l'ha trovata in casa, aprendo totalmente a caso i cassetti dello studio di Fotis. Certo, ai bambini è proprio a prescindere vietato entrare nello studio di Fotis. Ma santo cielo, quella pistola non la chiudi neanche in uno straccio di cassetto con una serratura. Io mi immagino i suoi figli che per fare una marachella entrano nel suo studio, aprono un cassetto a caso e pam! Una bella pistola fiammante. Ma come si fa? Come si fa? Ovviamente Jennifer, dopo aver appreso questa novità, si spaventa ancora di più. Così da quel momento decide che la priorità è la sua incolumità e quella dei suoi bambini. Jennifer inizia a pensare che tutti in quella casa siano in pericolo. La coppia giunge ad un punto di rottura, come già vi ho detto, nel giugno del 2017, in quanto Jennifer scopre la relazione di Fotis con Michelle Troconis. Michelle e Fotis si sono conosciuti a Miami. Lui si reca spesso lì per cercare nuovi investitori e per fare sci nautico. Michelle invece lavora proprio a Miami e quindi un giorno, casualmente, si incontrano. Quando Jennifer chiede spiegazioni a Fotis, lui reagisce in un modo che onestamente a me ha lasciato senza parole. Fotis dice a Jennifer che ha accolto Michelle e sua figlia a casa loro, cioè al numero 4 di Jefferson Crossing a Farmington, proprio a casa loro. Così, nella testa di Fotis, avrebbero vissuto tutti quanti insieme. Jennifer, i bambini, Michelle, sua figlia e Fotis, come una grande famiglia. Quanti di voi pensano che questa sia una proposta assurda, me compresa? Ebbene, anche per Jennifer questa è una proposta assurda, quindi rifiuta categoricamente. Dopo quest'ultima novità di Fotis, Jennifer decide di darci definitivamente un taglio. Prende i bambini, se ne va di casa e prende in affitto una casa a New Kenan. E in effetti, ad essere precisi, Jennifer fugge da un marito che abusa di lei psicologicamente. Jennifer è spaventata. Ha ragion veduta, oserei dire. Io, di uno che lascia la pistola nel suo studio come se nulla fosse, non mi fiderei a prescindere. La verità è una. Fotis si aspetta che Jennifer rimanga con lui anche se ha un amante, 10 amanti, 50 amanti, 100 amanti. È furioso con Jennifer per averlo lasciato. Non lo senti ciò, appena Jennifer se n'è andata, Fotis ha avvisato Michelle dell'accaduto, l'ha accolta in casa con sua figlia. Questo però non ha fatto cambiare assolutamente niente. Il suo atteggiamento verso Jennifer non è cambiato. Continua ad essere furioso con lei. E questo è un classico comportamento abusante. Anche se ti sei rifatto una vita, vuoi comunque controllare quella della tua ex partner. Lauren, dopo aver spiegato tutto questo alla polizia, conclude dicendo esattamente queste parole. Secondo me è successo qualcosa. Ed io credo che Fotis sia coinvolto. Gli investigatori, quindi, dopo aver sentito Lauren, la babysitter, approfondiscono la pista dei movimenti del cellulare di Fotis. Se ricordate, il giorno della scomparsa di Jennifer alle 7 di sera, il suo cellulare percorre, facendo diverse soste, Albany Avenue, ad Hartford. E la domanda principale qui non è perché Fotis ha fatto tutte queste soste. No, no. È a monte, perché la domanda principale è cosa ci faceva Fotis a quell'ora su Albany Avenue, a Hartford. Gli inquirenti si procurano tutti i video delle videocamere di videosorveglianza stradale di quel giorno. Le hanno visionati uno ad uno fino a quando non hanno notato un pick-up Ford Raptor di colore nero, intestato presumibilmente alla società di Fotis, percorrere Albany Avenue in diversi punti della carreggiata. Nel filmato si vede chiaramente che il conducente corrisponde alla descrizione di Fotis, mentre il passeggero assomiglia molto a Michelle Troconis, ossia la sua amante. I due, mentre percorrono Albany Avenue, si fermano per un motivo ben preciso, ossia per gettare via degli sacchi della spazzatura. In totale, quella serie 2 fanno più di 30 soste lungo quella strada, che per inciso non è neanche così infinita, è lunga 6,5 km. Ogni volta che si sono fermati, hanno gettato dei sacchi della spazzatura. La domanda che sorge spontanea è che cosa o chi c'è dentro quei sacchi della spazzatura? Gli investigatori con l'aiuto di cani molecolari si mettono alla ricerca dei sacchi della spazzatura di cui Fotis e Michelle si sono sbarazzati dopo la sparizione di Jennifer. Gli investigatori localizzano alcuni di quei sacchi che vengono immediatamente mandati in laboratorio per il parere della scientifica. Ma che cosa c'è dentro quei sacchi della spazzatura? Ci sono effettivamente degli elementi, direi un sacco di elementi, che non vanno assolutamente a favore di Fotis. Vengono rinvenuti alcuni indumenti di Jennifer, delle vascette, nastro adesivo e prodotti per la pulizia. Per l'esattezza una spugna e un mocio. Tutti questi oggetti hanno delle macchie che a primo impatto sembrano proprio essere macchie di sangue. All'interno di uno di questi sacchi c'è anche il logo di una bicicletta molto particolare prodotta in Francia. Gli investigatori quindi non hanno dinanzi il logo di una bicicletta che si può trovare facilmente in un grande magazzino. Non sanno che significato attribuire a questo logo ma sicuramente è strano quindi lo raccolgono e lo mettono con le altre prove. Inoltre gli agenti riescono a recuperare una busta in particolare che hanno visto in mano a Fotis nei filmati di videosorveglianza e quello è un indizio importante. Le autorità sono sicuri che quel sacchetto ce l'aveva Fotis in mano. L'hanno visto hanno le prove dentro quel sacchetto vengono trovate due targhe di automobili. La sequenza alfanumerica è modificata e la polizia scopre che quelle targhe appartengono proprio a Fotis Dulos. Fotis ha modificato i numeri e le lettere di entrambe le targhe con del nastro blu. Quindi la polizia si chiede se quell'uomo ha usato quelle targhe per guidare un veicolo mentre era impegnato a commettere un qualche tipo di crimine. Magari Fotis con quelle targhe false pensava di poter circolare libero per strada perché anche se qualche videocamera di sorveglianza l'avesse ripreso non avrebbe ricondotto il veicolo a lui quindi l'avrebbe fatta franca. La polizia però ha solo prove indiziarie al momento e non può contare sulla collaborazione di Fotis quindi convoca in centrale Michelle Troconis e la interroga riguardo la mattina in cui Jennifer è scomparsa. Michelle sostiene che la mattina del 24 maggio 2019 lei e Fotis si sono svegliati alle 8 e un quarto e poi hanno fatto la doccia insieme. Fotis è rimasto a casa quella mattina per incontrare il suo amico e avvocato Kent Mawinney. dopo le 9 del mattino Michelle esce per fare delle commissioni e non vede più Fotis per tutta la mattina. Lui la contatta alle 2 del pomeriggio per chiederle di andare ad aiutarlo a pulire una casa di sua proprietà all'80 di Mountain Spring Road a Farmington. A questo punto la donna va alla casa e sta con Fotis a pulirla fino alle 6 e mezza. Dopodiché Fotis le chiede se per caso ha voglia di andare in una caffetteria a West Hartford molto carina e romantica che conosce. Michelle accetta Fotis si mette alla guida però non si ferma affatto alla caffetteria bensì la supera. Da quel momento inizia a fermarsi davanti ad ogni bidone della spazzatura. In tutto ciò Michelle sostiene di non sapere il contenuto dei sacchi che stavano buttando. Quindi Michelle in questo caso non solo conferma che quelli non sono degli oggetti che hanno dovuto buttare e che provengono dalla casa che hanno pulito per ben 4 ore ma conferma anche che quelli nel filmato della sorveglianza della polizia sono proprio lei e Fotis. Michelle quindi dà un'ennesima conferma. Dai filmati si vede un Ford Raptor che risulta intestato alla società di Fotis e spesso quella macchina la guida uno dei suoi dipendenti un uomo di nome Pavel Gumieni. Gli investigatori però al momento non sono in possesso né di prove decisive né di confessioni quindi provano a interrogare Pavel Gumieni sperando di ottenere nuove informazioni. Pavel guida una Toyota Tacoma vecchio modello ma non è una macchina particolarmente affidabile è vecchia a molti chilometri e ogni tanto gli fa qualche scherzetto lasciandola a piedi quindi Pavel ogni lunedì mattina si reca nello studio di Fotis il suo datore di lavoro parcheggia la sua macchina e prende il Ford Raptor aziendale un'auto sicuramente più affidabile. Il giorno prima della scomparsa di Jennifer Pavel ha parcheggiato il suo furgoncino Tacoma Rosso fuori dallo studio di Fotis al numero 4 di Jefferson Crossing a Farmington per prendere la macchina aziendale ebbene il pomeriggio del giorno successivo Pavel vuole recuperare la sua macchina quindi torna allo studio di Fotis ma non la trova la sua macchina non è dove l'ha lasciata Pavel non ci mette molto a trovare la sua macchina in realtà trova la sua macchina Fotis e Michelle all'80 di Mountain Spring Road e anche a Pavel Fotis dice che si trova lì perché deve pulire la casa ovviamente Pavel l'ha trovato strano in quanto Fotis Dulos è capo di un'importante società multimilionaria ed è lui a fare le pulizie nelle sue lossuose proprietà risulta un po' strano oltretutto perché Fotis ha usato la vettura di uno dei suoi dipendenti quando avrebbe potuto prendere una macchina aziendale oppure una delle sue numerose automobili Pavel in quel momento ancora non sa che Jennifer è sparita eppure si rende conto che c'è qualcosa di strano qualcosa che non gli torna affatto in quanto il suo capo si comporta in un modo davvero bizzarro e lui non ne capisce il motivo inoltre Fotis prima di ridare la macchina a Pavel gli dice più volte di togliere i sedili attuali della sua macchina e di sostituirli con quelli di una Porsche da rottamare a Pavel a questo punto vengono ancora più dubbi quindi sostituisce i sedili ma non si libera di quelli vecchi li conserva e quindi li consegna ai detective le autorità inviano immediatamente i sedili al laboratorio della scientifica per farli analizzare in quanto se Fotis ha insistito tanto per farli sostituire deve esserci un motivo a questo punto gli investigatori si ricordano di quello strano logo di una bicicletta rinvenuto in uno dei sacchi della spazzatura quindi chiedono a Pavel se ne sa qualcosa Fotis usa biciclette? ne ha più di una? Pavel si ricorda di aver riparato per Fotis una bicicletta unica che non aveva proprio mai visto prima un modello a dieci marce con un manubrio curvo come delle corna di ariete la descrizione della bicicletta di Pavel corrisponde ad un modello prodotto dall'azienda francese Marcier ossia quella del logo rinvenuto all'interno di uno dei sacchi che ha buttato Fotis la polizia fino ad ora ha raccolto pochi indizi ma di una cosa è sicura tutti quegli indizi portano irrimediabilmente a Fotis Dulos le autorità a questo punto controllano di nuovo la videocamera di sorveglianza dei vicini di Jennifer questa volta cercano un Tacoma rosso e una bicicletta vintage ebbene la polizia prima vede quel furgone rosso e poi quella bicicletta con sopra qualcuno che si dirige nei pressi di Weveny Park più precisamente gli agenti vedono proprio una sagoma scura che pedala su quella bicicletta e si dirige verso casa di Jennifer Dulos le autorità si chiedono su quella bicicletta c'è Fotis che sta andando a rapire Jennifer la domanda diventa incessante fortunatamente solo il giorno seguente ottengono un mandato per perquisire la casa di Fotis al numero 4 di Jefferson Crossing a Farmington durante la perquisizione la polizia non trova nessuna bicicletta in compenso trova qualcosa di ancora più sbalorditivo infatti in uno dei bidoni della spazzatura della casa vengono trovati dei foglietti strappati e quelli sono appunti parecchio particolari quelli appunti strappati descrivono con estrema precisione quello che Fotis e Michelle hanno fatto il giorno della scomparsa di Jennifer e sorpresa sorpresa quella descrizione combacia parola per parola con quello che Michelle ha detto in precedenza durante il suo interrogatorio i due quindi hanno inventato una storia a cui avrebbero dovuto attenersi preconfezionando un alibi gli investigatori quindi chiamano nuovamente Michelle in centrale e le mostrano le prove in loro possesso ma Michelle difende Fotis con tutte le sue forze in quanto conosce solo la sua versione e ai suoi occhi è un uomo facoltoso gentile affascinante intelligente istruito mentre la sua ex moglie è peggio di Attila i detective ovviamente non sono soddisfatti di questa versione di Michelle e quindi la torchiano la torchiano per ore e alla fine Michelle si ricorda che in effetti una volta Fotis le ha detto riferendosi a Jennifer certe volte vorrei proprio che scomparisse curioso come il suo desiderio si sia avverato dopodiché Michelle rivela un'altra cosa la mattina del 24 maggio 2019 in realtà non è vero che ha visto Fotis non si sono svegliati assieme non hanno fatto la doccia assieme nulla di tutto ciò Michelle racconta che quel giorno Fotis non è in casa bensì è presente Ken Mowinney l'avvocato e amico di Fotis stranamente Fotis ha lasciato il suo cellulare a casa quella mattina e mentre Michelle è seduta nel suo studio il cellulare di Fotis squilla e Kent la esorta a rispondere pare quindi che Fotis voglia dare l'impressione di aver risposto ad una chiamata da casa a Farmington a oltre 100 km dal luogo in cui è scomparsa Jennifer l'arco temporale descritto da Michelle durante il quale non ha visto Fotis a casa ma ha risposto ad una chiamata dal suo cellulare nello studio è lo stesso lasso di tempo in cui la polizia sostiene che Jennifer sia stata aggredita e rapita dalle 8 e 5 alle 10 e 25 l'alibi di Michelle in quell'arco temporale viene confermato dalla polizia anche se i detective credono che Michelle stia nascondendo qualcosa gli investigatori continuano a scandagliare i registri contabili di Fotis e a parlare con la famiglia di Jennifer e ad un certo punto scoprono che la società di Fotis la 4 Group in realtà è sommersa di debiti Fotis infatti chiede un prestito al padre di Jennifer Hillard per un valore di 2 milioni e mezzo di dollari Hillard viene a mancare l'8 gennaio del 2017 così Fotis smette di parlare il debito e Gloria la madre di Jennifer gli intenta causa per riscuotere il denaro sommando tutti i prestiti che Fotis ha fatto si arriva ad un buco di 7 milioni di dollari ma c'è anche un dettaglio alquanto importante i genitori di Jennifer hanno intestato ai nipoti un fondo fiduciario di 2 milioni di dollari e non è difficile presumere che magari Fotis pensava che se Jennifer fosse uscita di scena lui avrebbe ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli insieme al loro fondo fiduciario e questo sì che è un movente bello e buono poi ecco che arriva una novità dovete sapere che a East Granby nel Connecticut sorge un club di caccia chiamato Rod and Gun Club è composto da 10 ettari di terreno ed è frequentato solo da gente facoltosa 2 membri usciti a caccia si sono imbattuti in una buca scavata nel terreno anche se qualcuno ha provato a nasconderla con delle griglie da barbecue e con una cerata blu i due cacciatori però non pensano che quel buco sia un brutto segno o un qualcosa di sospettoso quindi continuano con la loro battuta di caccia questo è accaduto una settimana prima che Jennifer sparisse a distanza di 3 mesi dall'inizio delle indagini salta fuori un uomo che sostiene di avere delle informazioni utili riguardanti la scomparsa di Jennifer chi? beh uno dei due cacciatori del Rod and Gun Club va dalla polizia dichiara che lui e un altro membro del club poco prima della scomparsa di Jennifer hanno trovato una buca fin qui nulla di strano il punto è che questo cacciatore ha sentito qualche tempo dopo un altro membro di quel club prestigioso parlare della scomparsa di Jennifer ebbene quest'altro membro del club ha sostenuto che un ex membro di quel club ha a che fare con la sparizione di Jennifer ossia Kent Mowinney l'avvocato e amico di Fotis la polizia si reca sul posto per esaminare la buca di quel terreno ma nonostante la scrupolosa perquisizione gli agenti non trovano niente che dimostri che Jennifer sia mai stata lì però si chiedono e se quella buca fosse stata scavata proprio per diventare la sua tomba? Kent conosce quel club di caccia ma cosa più importante i tabulati telefonici lo collocano lì ancora prima della scoperta della buca e se l'avvocato avesse dato una mano al suo amico e cliente Fotis preparando una fossa per la vittima? Kent Mowinney viene interrogato dalla polizia ed ovviamente nega di centrare qualcosa con la sparizione di Jennifer stando alle sue parole lui peraltro non ha scavato nessuna buca e in effetti il collegamento della polizia è davvero molto labile però in questo caso è necessario seguire tutte le piste che possono rivelarsi anche minimamente valide anche perché ce ne sono talmente poche anzi in realtà ce n'è solo una e porta irrimediabilmente all'ex marito di Jennifer passano altri mesi e non emergono novità ecco perché i familiari e gli amici di Jennifer provano ad appigliarsi con tutte le forze ad una speranza Jennifer è ancora viva e loro faranno di tutto per riportarla a casa poi però arrivano tutti i referti della scientifica e ben presto i cari di Jennifer si mettono l'anima in pace non l'avrebbero mai più riportata a casa in vita infatti i referti sostengono che all'interno del garage di Jennifer sulla sua auto sul secchio dell'immondizia sui sedili del furgoncino Tacoma guidato da Fotis ma di proprietà di Pavel e sugli oggetti di cui Fotis si è sbarazzato ad Hartford c'è il sangue di Jennifer questo è chiaramente uno sviluppo delle indagini straziante in quanto tutti in fondo al cuore hanno sperato di ritrovare Jennifer viva la famiglia e i cari di Jennifer stanno soffrendo la situazione è incredibilmente stressante e a questo punto chiedono a gran voce giustizia ma cercano di proteggere da tutto questo i cinque bambini di Jennifer quella è la loro priorità il 7 gennaio del 2020 malgrado la mancanza del corpo di Jennifer la polizia del Connecticut arresta Fotis Doulos con l'accusa di omicidio omicidio aggravato e sequestro di persona la cauzione è fissata a 3 milioni di dollari Michelle Troconis e Kent Mowinney vengono arrestati con l'accusa di concorso in omicidio sia Fotis che Michelle pagano la cauzione ma l'avvocato Kent Mowinney non è mai riuscito a pagare la cauzione quindi tutt'oggi si trova in carcere gli investigatori sono in possesso di un filmato della mattina del 24 maggio 2019 che mostra il Toyota Tacoma rosso di Pavel allontanarsi da casa di Fotis a Farmington diretto a New Canaan dove abita Jennifer poi riappare a Wavery Park che si trova a soli 5 km di distanza da casa di Jennifer a New Canaan e a questo punto che entra in azione la bicicletta francese a 10 marce di Fotis l'uomo ha parcheggiato la macchina a Wavery Park per poi avvicinarsi alla villa di Jennifer e questo lo si vede da altrettanti filmati di sorveglianza Fotis arriva a destinazione poco prima che Jennifer rientri a casa dopo aver accompagnato i bambini a scuola verso le 8 e 5 quella probabilmente è l'ultima volta in cui è stata vista Jennifer in vita le autorità sono convinte che Fotis la stesse aspettando in quanto la sua missione era quella di punire sua moglie per averlo lasciato Jennifer quindi entra in garage posteggia l'auto esce dalla sua auto e se lo trova lì pronto a colpirla è a questo punto che Jennifer capisce di essere in trappola Fotis usa delle fascette per legarle ai polsi poi la obbliga a salire sulla sua suburban nera mentre lui evidentemente si mette a pulire o almeno ci prova ed è proprio in questo momento che probabilmente ha lasciato delle tracce di DNA mischiate al sangue di Jennifer e il DNA non mente è una regola le tracce del DNA dimostrano che Fotis si trovava sulla scena del crimine è possibile che Fotis abbia frugato nella borsetta di Jennifer per cercare le chiavi le ha trovate ha aperto è salito in cucina e poi probabilmente ha abbandonato lì la borsa di Jennifer le registrazioni di videosorveglianza dei vicini mostrano la suburban nera di Jennifer che si allontana da casa sua alle 10.25 e in quel momento c'è Fotis alla guida sono state rinvenute tracce di sangue anche sul Tacoma Rosso quindi la polizia crede che Jennifer a Waveney Park sia stata spostata dalla suburban al Tacoma Rosso il Tacoma Rosso si dirige verso Mountain Spring Road dove Fotis ha una casa ma è proprio in quel momento che si perdono le tracce di Jennifer la domanda è dove è stata portata? Fotis lavora nell'edilizia quindi è possibile che magari l'abbia sepolta magari sotto del cemento da qualche parte per giorni gli investigatori perquisiscono la casa che si trova a Mountain Spring Road e altre proprietà di Fotis Doulos ma ad oggi i dettagli delle perquisizioni non sono ancora noti il 28 gennaio del 2020 Fotis deve fare la sua prima apparizione in tribunale ma quando non si presenta la polizia si reca immediatamente alla sua residenza per rintracciarlo una volta giunti sul posto gli agenti trovano Fotis seduto a bordo di una delle sue macchine con un tubo che va dall'impianto di scarico all'interno dell'auto con i finestrini chiusi appena gli inquirenti trovano Fotis in quelle condizioni provano a rianimarlo ma non ci riescono se rendono conto che le sue condizioni sono davvero problematiche e quindi chiamano d'urgenza un'ambulanza Fotis però muore per rintossicazione da monossido di carbonio quindi fatemelo dire questo uomo questo vigliacco ha preferito togliersi la vita piuttosto che dire ai suoi cinque innocenti figli dove si trovi loro madre in seguito alla sua dipartita il procuratore fa cadere le accuse a carico di Fotis Doulos Michelle Troconis e Ken Mawinney sono tuttora accusati di concorso in omicidio credo sia importante sottolineare che in questo caso la vittima non è Fotis forse Fotis è vittima della sua vigliacchieria nient'altro se si è tolto la vita è stata una sua libera scelta la verità è che questo uomo ha ucciso sua moglie la madre dei suoi cinque figli e poi si è tolto la vita senza neanche dire dove si trovi il corpo avrebbe potuto lasciare un biglietto di addio e invece non l'ha fatto la verità è che quei cinque bambini alla fine hanno perso entrambi i genitori questa è la nuda e cruda realtà detto questo ragazzi mentre approfondivo questo caso effettivamente mi è proprio sorta la domanda ma è davvero sempre colpa del marito perché inizialmente Fotis si si comportava in modo strano però non sembrava colpevole e invece secondo me è colpevole anche perché se no perché mai togliersi la vita il fatto che si si è tolto la vita per me è un indizio lampante è stato lui a far fuori Jennifer certamente bisogna chiarire se l'ha fatto con l'aiuto del suo avvocato e amico è della sua amante la verità è che loro due devono affrontare un processo mentre invece Fotis ha deciso di togliersi di mezzo senza neanche affrontare il processo ci sono tanti criminali ad esempio che affrontano il processo vengono dichiarati colpevoli e poi si suicidano in carcere lui neanche mai ci è arrivato in carcere detto questo ragazzi e ragazze fatemi sapere quello che volete su questo caso lo conoscevate secondo voi Fotis è colpevole? la pensate come me oppure pensate che ci sia qualcosa d'altro di mezzo fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao